Il lavoro in sicurezza è un gioco di squadra. Rispettiamo tutte le regole sanitarie che ci siamo dati nei luoghi dove ogni giorno lavoriamo. Laviamo e sanifichiamo spesso le mani. Manteniamo i distanziamenti previsti. Indossiamo la mascherina. Per un futuro di crescita e sviluppo sostenibile, adottiamo tutti insieme un comportamento utile, civile e responsabile. Insieme per il lavoro. Insieme contro il Covid. Le regole di sicurezza e i protocolli di settore su www.lavorosicuroer.it 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 www.lavorosicuroer.it